Ciao, mi chiamo Angela, ho 46 anni e vengo da Terranova Bracciolini in provincia di Arezzo. Faccio parte del comitato di Matteo Renzi a Terranova Bracciolini, voto Matteo perché credo che c'è bisogno di un cambiamento, c'è una sfiducia da parte dei cittadini delle istituzioni e Matteo per me è il cambiamento in questo momento. Sveglia, sveglia, se non voti per Matteo Renzi, per chi vuoi votare, solo lui ci può salvare, solo Matteo Renzi ci può salvare, lui per noi, noi per lui, fai qualcosa, muoviti. Allora, sono Riccardo Ricchi, vengo da Buscine, sono un informatico nel campo bancario e voto Matteo Renzi perché è l'unica persona nello scenario politico italiano che dice che voglia ricostruire l'Italia partendo dalle fondamenta, dalle istituzioni, dalla cultura, dal lavoro e non, come magari tanti altri, dalle grandi opere, quindi questa metafora dal tetto. Anch'io sono Emanuele, anch'io vengo da Buscine come Riccardo, sono anch'io un consulente informatico, e ho deciso di votare Matteo Renzi perché è veramente l'unica persona che mi ha dato un motivo, una spinta per votare, poi tutto il resto l'ha già detto lui. Ciao, sono Mattia, ho 22 anni, sono studente universitario e sono il coordinatore del comitato di Matteo Renzi di Nogara, Gazzoveronese e Sorgà e io voto Matteo Renzi perché ho avuto l'azzardo di mandargli la mia tesi universitaria e lui mi ha risposto, ma non solo per questo, anche perché trasmette tanto entusiasmo, tanta voglia di fare politica sana, giovane e perché credo veramente che per uno studente come me che ha studiato l'Unione Europea, sentire mettere l'Unione Europea stessa al centro di un progetto e parlare di Stati Uniti ed Europa sia la cosa più interessante e più bella per uno come me.